...preventa il metodo regionale. Sul vento, tempo stabile. Vediamo le indossate le zone climatiche. Sul litorale, la pianura padano-veneta, gli alti e i sottili vederanno in cielo, ma consiente nel pomeriggio sera. Postine e turne. Sul litorale, la pianura padano-veneta, gli alti e i sottili vederanno in cielo. Postine e turne.